Armati di buona volontà e numerosi pacchi dono, i componenti di Noi con Salvini hanno dedicato un po' del loro tempo per le fasce menambienti di Gela. A poche ore dal Natale molte famiglie hanno ricevuto a casa la spesa natalizia. Un gesto forte e simbolico come spiega il rappresentante gelese del partito fondato da Matteo Salvini. Noi con questa azione non vogliamo risolvere i problemi di una città che ha lo sbando. E' un piccolo gesto di aiuto in prossimità alle feste natalizie. Ovviamente questo è un gesto che noi vorremmo ripetere nei mesi a seguire, volendo fare una giornata della solidarietà una volta al mese. Per queste famiglie comunque che vivono in uno stato veramente disastroso e penoso. Ovviamente non si mangia solo il giorno di Natale, sono famiglie che hanno bisogno tutti i giorni di dare qualcosa ai propri figli. Quindi è un gesto che noi vogliamo ripetere nei giorni e nei mesi a seguire. Allora speriamo che altre associazioni possano comunque emulare questo nostro gesto, anche altri partiti politici, movimenti, emulare questo nostro gesto e anche loro proporsi per la cittadinanza. E non solo ai fini politici, ma solo al fine di portare solidarietà e conforto a questa gente.